Eccoci a Napoli, un dermi tranquillo fra l'Avellino salvo e il Napoli sicuro al terzo posto. Abbiamo visto una finezza di Maradona, qui vediamo un'azione avellinese con il colpo di testa di Diaz, che manca di poco il bersaglio. Poi Bagni resiste a un paio di interventi, mette al centro un pallone, Giordano di testa segna il gol vittoria. Era il nono minuto del secondo tempo, ancora Diaz chiama Garella a questo bel intervento. Poi Bertoni coglie il palo su calcio di punizione, Bagni spara nel mucchio.